Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo video vi spiego come attivare o disattivare la funzionalità del net framework su windows 10, windows 11 tanto lo stesso procedimento quindi se vai su attiva funzionalità oppure attivo disattiva funzionalità di windows ci clicchiamo sopra e andiamo a trovare così net framework eccolo qua abbiamo la versione 3.5 e abbiamo la versione 4.8 ovviamente per disattivare questa versione basta che togli il servizio da qua lo togli lo fai anche qua sopra e una volta fatto fai ok farà un caricamento e avrà così disattivato i net framework quindi se questo video ti è stato utilissimo un piccolo tutorial su come disattivare o attivare la funzionalità di net framework su attiva e disattiva le funzionalità di windows iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao